Il consigliere del presidente della regione Puglia per l'attuazione del piano Taranto, Mino Borraccino, dice in un momento topico estremamente complesso per i rincari legati alla questione energetica in Puglia si lavora a lei caramente per rispondere in maniera alternativa all'approvvigionamento sicuro e sostenibile dell'energia e in corso di pubblicazione sul BURP, dice Borraccino, nuovo avviso pubblico per manifestazione di interesse nella relativa modulistica finalizzato all'individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell'idrogeno rinnovabile per la partecipazione alle attività e i compiti dell'osservatorio regionale sull'idrogeno.